L'incontro di oggi di giustizia e letteratura riguarda Daniel Defoe e più in generale il settecento inglese, momento molto interessante perché è in questo periodo che per la prima volta nella storia d'Europa si forma anzitutto una criminalità di tipo moderno organizzata, si formano, si creano crimini di tipo finanziario, quindi qualcosa di molto moderno e vicino ai giorni nostri e si crea tutta una letteratura che parla del crimine su giornali, riviste, romanzi. In questo campo fa da padrone ovviamente Daniel Defoe con i suoi romanzi di vita bassa e vita criminale.